Sono responsabile dell'assistenza tecnica della General Line della Enkel Italia, Enkel è una struttura multinazionale che si occupa di molti settori e noi seguiamo la parte del trattamento superficiale. Ho l'onore di partecipare a queste riunioni, a questi convegni sin dal loro inizio, prima come spettatore i relatori erano dei miei colleghi e poi come relatore di cui sono molto felice e ringrazio Danilo per questo. Siamo presenti sin dall'inizio perché pionieri in queste cose, le nanotecnologie sono nate con prodotti, almeno questo lo posso rivendicare con prodotti della Enkel. L'autoforesi è un sistema dove siamo stati pionieri, noi abbiamo sviluppato un processo anni fa dove la corrente elettrica veniva eliminata per fare il trattamento, chiamiamola verniciatura, anche se era in realtà una specie di deposizione organica, come se fosse una fosfatazione organica, quindi diretta su metallo, senza conversione chimica intermedia. I vantaggi li ha descritti anche prima il collega della K-Metal, abbiamo una protezione degli spigoli molto elevata, tutte le vernici alla temperatura di polimerizzazione, prima di polimerizzare tendono a lasciare gli spigoli scoperti, mentre questa tecnologia avendo una reazione chimica di crescita col substrato, forma delle sostanze che non hanno questa tendenza e quindi la protezione è maggiore. Le limitazioni del campo elettrico, la parte interna, la penetrazione, il throwing power è sicuramente un problema nella cataforesi, mentre con l'autoforesi questo problema è stato superato, perché è dove bagna e deposita. Qui è un altro esempio dove abbiamo questo tipo di problematica nei prodotti per l'antincendio, l'interno dei tubi rimangono per molto tempo con l'acqua dentro e nel caso di bisogno rischiano di non essere funzionali perché la corrosione ha occluso gli ugelli di spruzzo, quindi devono essere soggetti a una manutenzione preventiva molto intensa per evitare questo problema, mentre potendo rivestire anche internamente si riesce a ridurre la dimensione dei tubi, si riesce a diminuire la manutenzione e ci sono esempi di successo di questa tecnologia applicati industrialmente. Il costo del processo rispetto a una cataforesi, anche se non è che è un'alternativa in tutto e per tutto la cataforesi ovviamente è una possibile sostituzione, è una possibile implementazione di un processo dove si possono avere dei risparmi in caso di applicazione perché la tecnologia diventa interessante per quell'applicazione e a parità quindi di performance possiamo avere dei risparmi dal 10 al 30% generati da queste voci che noi possiamo vedere nella slide. I processi nanotecnologici, giusto per fare un riassuntino di quello che è la tecnologia Enkel, normalmente abbiamo prodotti a base di zirconio, titanio, cromotrivalente e hanno tutte queste performance di formare uno stato nanometrico e per quello che le chiamiamo nanotecnologie e si pongono come alternative i trattamenti tradizionali di fosfato e di zinco, fosso sgrassaggio, eccetera. L'applicazione a spruzzo e immersione classiche oppure a nebulizzazione col sistema PNR che abbiamo sviluppato apposta, dopo avere portato avanti le tecnologie nel modo classico abbiamo anche provato a sviluppare sia la conversione nel cleaner coater quindi con i sistemi 40-0-43, 40-0-47 ma anche come applicazione a nebulizzazione tagliata sui nostri prodotti in modo tale che sia un sistema competitivo anche per clienti nell'ambito del contoterzismo che è il settore che seguiamo di più qui in Italia. Il sistema PNR è un sistema abbastanza efficace che ormai ha una diffusione enorme in tutto il mondo, è molto semplice, diciamo che si tratta di applicare il prodotto che viene iniettato nel pannello di diluizione a seconda della quantità di acqua che noi chiamiamo che può essere determinata a seconda delle superfici, a seconda del grado di evaporazione dello stadio caldo, ci sono diversi parametri per poter definire questa quantità e viene controllata da un conduttimetro prima e dopo la qualità dell'acqua e la presenza del prodotto, in questo modo noi possiamo mettere il prodotto che vogliamo e applicarlo quando vogliamo. In effetti è semplicissimo da applicare sempre su impianti esistenti oppure anche su impianti nuovi, è molto flessibile perché si può adattare a tutti i vari tipi di processo di materiale, come altri hanno detto il controllo del bagno non è necessario, la soluzione è sempre fresca e si può al contrario del sistema a vasca che è sempre lì, questo può essere spento e acceso al bisogno, senza cambio a vasca. Quindi se facciamo un confronto fra i sistemi tradizionali, i sistemi NGC e il sistema autoforesi, vediamo che il sistema foresi ci elimina lo stadio di pretrattamento, la pulizia è sempre indispensabile, il pretrattamento viene conglobato nel sistema autoforesi e dopodiché andiamo a applicare la verniciatura finale quando necessario. Qua possiamo fare due considerazioni sui primer che quali tradizionali e base d'acqua proteggono anche l'interno come lo fa l'autoforesi con emissioni di CO2 ragionevoli, il film comunque non è omogeneo, tendono a forma a gocce e comunque non sono la soluzione ottimale per la protezione e la corrosione. Hanno dei solventi e quando applicati dopo fosso sgrassaggio e fosfattazione consumano comunque più energia rispetto ai trattamenti a base di zirconio e comunque c'è il problema dei fanghi che i prodotti nanotecnologici hanno superato. I processi di elettrodiposizioni affondano risultati più omogenei, una produzione eccellente contro la corrosione non formano gocce, a causa dell'effetto Faraday la probabilità che raggiungano aree interne è molto bassa e sprigionano fumi alle alte temperature di polimerizzazione, quindi è necessario un passaggio in forno con scombustori e quindi aumenta le emissioni di CO2 e lo spessore del film rimane comunque basso. Gli rivestimenti autoforetici possono rappresentare quindi un buon compromesso, a seconda della tipologia non necessitano di stati di conversione, stati di conversione e per alcune tecnologie è sufficiente un'istituzione a 90 gradi prima dell'applicazione del top coat in polvere, in questo modo si accorce la linea di produzione, si ottiene una protezione omogenea su tutto il pezzo, una protezione eccellente del bordo, eliminiamo le morche e riduciamo i consumi energetici. Ho voluto scrivere queste cose che rimangano rintracciabili anche per letture future e mi sembra una sintesi molto interessante. I prodotti tradizionali, vecchi di 25-30 anni, la 866 con bassa temperatura numero di polimerizzazione, la 930, lanciato nel 2008 con alte performance di protezione e 935G di colore grigio, lanciato nel 2010 come primer, press chassis e telai. Un concetto che abbiamo introdotto con l'autoforesi è il sistema Co-Cure, quindi la MPP è considerata un primer, invece di avere una polimerizzazione abbiamo una disidratazione del film, applichiamo la polvere e quindi facciamo una polimerizzazione contemporanea che l'avevamo chiamata Co-Cure, quindi il processo viene semplificato, c'è una maggior flessibilità, risparmio energetico e alte prestazioni. Qui abbiamo un esempio di differenza fra il ciclo tradizionale dove abbiamo un primo riscaldamento a 180 gradi per la polimerizzazione, un raffreddamento, l'applicazione della polvere e una seconda cottura con il processo Co-Cure dove abbiamo una prima disidratazione del materiale, dopo abbiamo una disidratazione complessiva, un raffreddamento, quindi anche risparmio di tempo, l'applicazione della polvere e la cottura, quindi abbiamo un risparmio sia di energia in questo punto che di tempo e di spazio. Dopodiché perché non lo posso fare con le cote, il Co-Cure? Perché la cataforesi degrada le alte temperature e forma prodotti di reazione con difettosità e qui abbiamo una fotografia con l'esempio dei possibili problemi che possono nascere da queste cose. Ci sono dei solventi altobollenti che rimangono nell'e-coat, l'MPP invece non li ha. Queste qua sono le approvazioni che si possono vantare con questi processi, ormai da anni sul mercato, sia nell'agricoltura che nell'automotive. Poi abbiamo una fornitura abbastanza dal 2009 che facciamo questo servizio per i tombini stradali, il prodotto, l'MPP10 viene applicato dopo lo sgrassaggio, non c'è risciacquo e quindi questo non c'è una classica fase di passivazione finale che non ho a mente sull'MPP facciamo. Questo ha aperto la strada poi all'MPP102 che è un tipo di prodotto abbastanza innovativo, vernice acrilica senza VOC con bassa temperatura di polimerizzazione che è nato da riverniciare con top coat, comunque avendo la possibilità di essere applicato in diversi colori può far risparmiare la quantità di polvere che si mette su per aumentare il potere coprente. Il processo quindi diventa semplicissimo perché c'è il discorso del no rinse, quindi abbiamo uno sgrassaggio, risciacquo e l'applicazione del prodotto. Abbiamo applicazioni su termosifoni, abbiamo applicazioni su carri attrezzi, abbiamo applicazioni su armadi elettrici, quindi sono applicazioni dove abbiamo raggiunto anche interessanti performance di qualità e è stata la base poi per sviluppi ancora più interessanti. Qui abbiamo di nuovo il grafico che vi ho fatto vedere precedentemente, dove si vede la dinamica del processo MPP102, quindi il risparmio energetico che ne consegue. Quindi con questo tipo di prodotti abbiamo dato il nostro contributo alla sostenibilità, quindi ci eravamo posti degli obiettivi di aumento della sostenibilità, di avere un fattore 3 fra l'aumento della performance e la riduzione delle risorse utilizzate per avere questo aumento. La sostenibilità quindi con questo fattore secondo noi l'abbiamo raggiunta, abbiamo la formazione di un film omogeneo, la protezione delle cavità superiore fosfato di zinco, la protezione del bordo, abbiamo la possibilità di colorare lo strato, abbiamo elevate prestazioni qualitative, una ridotta complessità di applicazione e un'ampia finestra di applicazione. Questo con un prodotto di base acqua senza bisfenoli, 0 VOC, 0 emissioni, esenti da metalli pesanti, esenti da composti stanno organici e quindi abbiamo il processo che riduce il fruit print perché abbiamo una deposizione autoforetica esente da corrente, il processo è breve, non c'è bisogno di risciacquo, la temperatura è bassa di polimerizzazione e abbiamo una riduzione di emissioni di CO2 del 19% in meno rispetto all'elettrodeposizione. La formazione del film è molto bassa, le emissioni dell'impianto sono ridotte, abbiamo un'elevata efficienza di trasferimento, quindi un'elevata produzione, nessuna mascheratura, il trattamento è semplice dalle acque reflue e quindi non avendo risciacquo abbiamo anche un ridotto consumo di acqua. Quindi a questo punto come mai parliamo di autoforesi durante il congresso nanotecnologie? Diciamo che il concetto di esente risciacquo, eliminare la fase di conversione o incorporarla insieme all'autoforesi tramite le tecnologie classiche o innovative che abbiamo, la nostra chimica che abbiamo usato sempre per fare nanotecnologie, ci ha permesso di ulteriormente aumentare le performance e di cominciare a proporre un prodotto più innovativo. Quindi sempre resina acrilica, esente COD, sovraverniciabile, il processo sempre corto, il costo è sempre basso, abbiamo le mille ore di nebbia e salina, va polimerizzato ovviamente per poter avere questo risultato e possiamo usarlo come primer seguito da top coat poi come la 102 precedente. Perfetto, quindi possiamo usarlo da solo come primer o come primer, quindi fatto la disidratazione a 90 gradi e la polimerizzazione, la co-cure con la polvere. Qui abbiamo alcuni esempi, vado veloce perché sono i soliti grafici che poi potete ancora rivedere, comunque dove abbiamo le performance del prodotto quando polimerizzato mi danno risultati interessanti. Qui abbiamo un confronto con le nanotecnologie classiche dove abbiamo addirittura una minore delaminazione, anche perché fa un po' da primer. Quindi qui abbiamo con un top coat, quindi anche qua verso la 20-120 e abbiamo un buon risultato che passiamo le mille ore comunque con delaminazione inferiore ai 3 mm. Qui abbiamo altri tipi di applicazioni su radiatori da solo, senza pigmenti e questo è una specie di verniciatura trasparente dopo un anno di esposizione esterna, ancora senza nessun problema di corrosione. mille ore di nebbia salina, delaminazione molto bassa, test di adesione che li supera come al solito, come diciamo così anche altre tecnologie facciamo, però sono risultati molto interessanti. Le applicazioni, spreche di antincendio come abbiamo visto prima, motori elettrici, macchine a movimento a terra, cabine elettriche. Quindi, come dicevo prima, possiamo tendere a ridurre lo spessore del top coat perché possiamo colorare il trattamento. Al momento il trattamento è rosso, abbiamo anche altri colori, bianco, blu, eccetera. Potenziali applicazioni, qua ho fatto qualche potenziale esempio, dove possiamo usare il nostro MPP rosso. Niente, avrei finito la mia presentazione e ringrazio ancora per la partecipazione.